Bentornati amici, sono qui per replicare il successo del video uscito qualche tempo fa su 5 modi per migliorare la qualità delle vostre immagini. Oggi andiamo a vedere altri 5 modi per migliorare la qualità delle vostre immagini. Bene, eccoci qui, partiamo subito a bomba e vi voglio parlare subito della scelta della lente. Infatti la scelta della lente abbinata al sensore della nostra fotocamera inciderà drammaticamente sul risultato finale della nostra immagine. In particolare vi faccio notare che alcune lenti avranno più nitidezza e più contrasto rispetto a certe altre. Come facciamo a sapere quali sono? Allora, innanzitutto vi posso dire una cosa che a molti non piacerà, ma purtroppo più una lente costa e migliore è. Non esistono delle lenti fantastiche cinesi da 100 euro, semplicemente non esistono. Esistono delle lenti cinesi da 100 euro, sì, ma delle lenti cinesi da 100 euro fantastiche e bellissime non esistono. Altrimenti sarebbero scemi quelli che producono delle lenti da 2000 euro e sarebbero ancora più scemi quelli che le comprano, tra cui anche il sottoscritto. Questo ovviamente dipende un po' dalle nostre tasche e da quello che ci possiamo e vogliamo permettere. E non sto dicendo che per fare delle belle foto bisogna per forza avere una lente da 2000 euro. Anche se una lente da 2000 euro sicuramente migliora la qualità generale delle nostre foto. Questo è innegabile. Quello che voglio dirvi però è un'altra cosa. Facciamo attenzione all'ottica che selezioniamo. Perché per esempio se stiamo facendo un ritratto non andiamo a scegliere un grand'angolo. Questo vale anche se stiamo lavorando sul cellulare. Se stiamo lavorando su un cellulare e stiamo realizzando un ritratto cerchiamo di utilizzare... Adesso i cellulari hanno tutti due o tre camere quello che è. Per esempio io sull'iPhone ho tre camere. iPhone 11 Pro quindi non è l'ultimo però ha già tre camere. Vado a selezionare la camera più lunga. Il teleobiettivo vado a selezionare nel momento in cui voglio fare un ritratto. Questo perché voglio il ritratto con meno distorsione possibile. Ora diminuendo l'angolo di campo quindi andando verso il teleobiettivo. La distorsione delle fattezze dei lineamenti viene diminuita. Invece aumentando l'angolo di campo le distorsioni vengono accentuate. Infatti se avete un cellulare con le tre camere e provate a usare il grand'angolo. Vedrete che c'è molta distorsione. Anche perché in un lentino piccolo come quelli dei cellulari è una cosa che non è molto gestita quella della distorsione. Molte lenti di livello professionale hanno tutti dei meccanismi ottici per la riduzione della deformazione a barilotto. E poi ci sono dei meccanismi ulteriori di attenuazione della distorsione in post produzione. Queste cose quando lavoriamo con un cellulare non ci sono. Sono tutte cose che vanno a deformare quelli che sono i lineamenti naturali della persona e della figura. E vanno a rendere il nostro ritratto meno gradevole. Quindi se stiamo realizzando un ritratto puro cerchiamo di utilizzare l'ottica più lunga che abbiamo o comunque la camera del telefono più lunga che abbiamo. Questo sarà già un plus incredibile per le nostre immagini. Inoltre più lunga è la focale e più lo sfondo tenderà a sfocare. Quindi anche sul cellulare se realizziamo un ritratto avremo un pochino di più quantomeno di sfondo sfocato che serve a separare un po' il soggetto dallo sfondo. Questo aiuta molto anche col telefono ovviamente aiuta molto di più se stiamo lavorando con una fotocamera vera. Quindi nel momento in cui stiamo lavorando con una fotocamera se stiamo facendo un ritratto cerchiamo di stringere se abbiamo uno zoom cerchiamo di scegliere l'ottica adatta se abbiamo solo ottiche fisse. Nel momento in cui lavoriamo su un ritratto con un'ottica più ampia non facciamo più lo stesso formato. Dobbiamo avere consapevolezza dell'ottica che stiamo utilizzando in relazione al formato. Se per esempio stiamo scattando con un telefono e stiamo utilizzando la camera standard, la camera standard di molti telefoni è intorno al 35 mm come relazione tra la lente e il sensore. Quindi è una lente che può servire a fare dei ritratti però non va bene per fare degli headshots. Per fare un headshot bisogna cercare di allungare un pochettino la lente. Quindi consapevolezza del mezzo ci dice che se sto usando la camera normale del mio cellulare magari non faccio questo formato sui miei ritratti ma vado un pochino più indietro, prendo la figura intera con anche un po' di sfondo. In quel caso va bene. Se stiamo facendo un ritratto a figura piena va benissimo la camera normale perché è circa un 35 mm quindi è un medio grand'angolo. Va bene per fare quelle robe lì, non va bene per fare ritratto puro o comunque mezzo busto, non va bene per fare quella cosa lì perché avvicinandomi così tanto avrò molta deformazione dei lineamenti e una foto non particolarmente gradevole. Salvo magari rare pose molto dinamiche però non è il massimo della vita, è molto meglio stare un pochettino più indietro quando si utilizza una lente del genere. Quindi questo è il primo step, provatelo, fatemi sapere se la vostra fotografia migliora e lasciatemelo anche sapere in un commento qua sotto. Un'altra cosa che possiamo fare per avere un po' più di controllo sulla qualità finale delle nostre immagini è stare attenti al bilanciamento del bianco. Ora sembra una cavolata perché il bilanciamento sì lo sappiamo tutti si può cambiare anche dopo è vero però primo se stiamo facendo video non si può quindi comunque è bene curarlo e poi è un aspetto che se viene curato prima è comunque meglio perché significa che dovremo fare meno post produzione dopo. Può anche voler dire che le nostre immagini saranno pronte subito perché magari l'unica modifica che dovevamo fare era quella. Magari stiamo scattando in un interno con delle luci a incandescenza e l'unica modifica che dobbiamo fare è attenuare un po' quel giallo della luce a incandescenza se no era perfetta così se noi lo curiamo da subito quell'aspetto non dobbiamo nemmeno fare quello step in più. Questo vale soprattutto se stiamo scattando in jpeg ovviamente perché lì la possibilità di intervenire in post produzione è lievemente più ridotta. Ovviamente se stiamo lavorando su una fotocamera niente di più facile apriamo le impostazioni del bilanciamento del bianco e osserviamo perché noi possiamo fare uno scatto di prova se lavoriamo con una reflex o guardare il display se stiamo lavorando con una mirrorless che dà già il risultato finale in camera quindi guardiamo quello che stiamo facendo guardiamo il risultato finale decidiamo se ci piace perché se ci piace con l'impostazione normale che troviamo sulla camera magari impostiamo tungsteno e già va bene è un conto ma altrimenti si possono impostare i gradi kelvin della temperatura colore manualmente e questo è quello che faccio io il più delle volte il più delle volte io scelgo una temperatura ben precisa che poi spessissimo è 5200 kelvin perché di solito uso quella temperatura perché lavoro con una luce di un certo tipo e quindi mi piace essere sempre lì con la temperatura colore così conosco l'ambiente in cui sto lavorando e al massimo so come intervenire però intanto le mie riprese sono tutte uguali nel medesimo ambiente se cambio ambiente dovrò modificare anche quel parametro ovviamente ma se sto nello stesso ambiente tutte le mie riprese saranno uguali perché altrimenti quello che succede è che la camera imposta una variabile a seconda di quello che stiamo riprendendo quindi io sono in mezzo al frame farà il bilanciamento su di me io mi sposto di lato farà il bilanciamento sullo sfondo perché di solito tende a fare una media ponderata o comunque a tenere in maggior considerazione il centro del frame quindi sarà sempre diverso se non lo impostiamo manualmente sarà sempre diverso e questo significa intanto che non siamo costanti in secondo luogo può anche voler dire che se stiamo facendo un video cambia durante la ripresa se lasciamo questo processo non gestito e lasciamo che sia la camera a doversene preoccupare nel momento in cui facciamo un cambio di inquadratura potrebbe cambiare completamente il colore direttamente durante la ripresa questo non è quello che vogliamo se si verifica una cosa del genere siamo costretti a farlo quantomeno facciamo una transizione e passiamo da una ripresa con un colore a una ripresa con un altro colore ma gestiamo la cosa non lasciamo che sia la camera a deciderlo se no si vede lo stacco proprio sul video quindi questo è un altro aspetto di cui possiamo avere cura per migliorare la qualità finale delle nostre immagini e tenete anche conto di questo tenete conto che un'immagine con un bilanciamento del bianco che tende al giallo sarà più luminosa rispetto a un'immagine con un bilanciamento del bianco che tende all'azzurro questo semplicemente perché il giallo e il blu possono avere gli stessi valori numerici però percettivamente per il nostro occhio il giallo è più chiaro per cui una foto che tende al giallo sarà più luminosa se noi cambiamo la temperatura colore di una foto e la spostiamo verso il blu risulterà più scura un altro aspetto molto importante che spessissimo viene trascurato anche dai professionisti del settore è la destinazione finale di quello che stiamo realizzando la cosa migliore è chiedere quale sarà la destinazione finale per esempio se io sto scattando delle foto di interni le scatto tendenzialmente tutte in orizzontale per una questione mia perché sono abituato a lavorare così reputo che sia la cosa migliore per i nostri occhi reputo inoltre che i clienti più alti che posso avere che sono architetti e studi grafici li guarderanno su un computer i miei scatti non su un cellulare perché sono clienti di fascia alta se stiamo lavorando viceversa per clienti di fascia bassa o medio bassa state sicuri che è esattamente il contrario questi clienti probabilmente non possiedono un computer e quindi vedranno le vostre foto unicamente da smartphone solamente da smartphone e questo significa due cose la prima è che tutta la qualità che voi state mettendo nell'utilizzare la vostra camera più bella non serve a niente perché la vedranno piccola così non è così indispensabile portare la camera più figa che avete basta che portiate una camera in grado di fare il lavoro ma non servono tanti megapixel e non serve nemmeno una gamma dinamica esagerata tanto poi la vedranno piccola così in secondo luogo però potrebbe essere una buona cosa domandare la destinazione finale perché quasi certamente le immagini andranno sui social e quindi stiamo parlando di instagram quindi andranno quadrate perché nel feed si vedono quadrate quindi se io le ho scattate tutte in orizzontale poi se devono venire fuori rifilate quadrate può essere un problema quindi dobbiamo ragionarci e calcolare magari che devono essere quadrate quindi dobbiamo calcolare di mettere il soggetto nella porzione quadrata centrale rinunciando alle porzioni che rimangono sacrificate sui lati o quantomeno calcolando che quelle porzioni poi si vedranno nel feed ma nella griglia non si vedranno più quindi questa è una cosa che dobbiamo tenere a mente oppure addirittura possiamo pensare a scattarle direttamente in verticale perché se finiscono unicamente nelle stories come è probabile perché ormai gira tutto intorno a queste stories maledette che spariscono subito quindi lavoro magari di una giornata che nel giro di 24 ore è messo lì e poi scompare è frustrante lo so ragazzi l'importante è che ci paghino uguale perché alla fine l'importante è quello se il cliente ha pagato la stessa cifra per me può anche non pubblicarle quindi cavoli suoi il punto però qual è? nel momento in cui io faccio delle foto devo tenere conto di quale sarà la destinazione finale e di come verranno eventualmente ritagliate perché io sto scattando in due terzi se io scatto in due terzi e poi deve essere messo in 9 sedicesimi quindi in verticale è un problema perché una parte molto ampia dell'immagine verrà ritagliata quindi io devo di volta in volta calcolare che se vengono utilizzate come stories è meglio se le faccio già in verticale ed è meglio comunque se metto il soggetto in centro in maniera tale che i bordi siano sacrificabili questo è molto importante per i social tenete conto che era importante anche sulla carta stampata quando lavoravo per il giornale mi dicevano sempre quando vai a fare un servizio fotografico fai le orizzontali le orizzontali servono se dobbiamo fare un'apertura quindi apertura su due pagine si usa l'orizzontale perché si usa a fascia si scrive nella parte bassa e si lascia l'immagine sopra quindi l'orizzontale serve sempre fai anche la verticale dello stesso soggetto uguale e identico ma fai anche la verticale perché? perché magari la usiamo per la copertina la copertina è a sviluppo verticale quindi lì usiamo la verticale è vero che si può girare e croppare però nativamente per stampare su quei formati stampare sulla doppia pagina di un giornale i megapixel servono tutti quindi non vogliamo andare a perdere qualità perché stiamo ingrandendo è sufficiente fare uno scatto in più e abbiamo già la foto giusta senza dover andare a perdere qualità questo è più o meno lo stesso discorso con la differenza che qui io non sto facendo una ventina di foto per un articolo di giornale ma sto facendo magari 500 per un cliente che poi le vuole per la programmazione social di tutto il mese quindi non vado a fare le foto doppie di tutto ovviamente cerco piuttosto di capire la destinazione perché se il cliente mi dice guarda che vanno solo nelle stories e io orizzontali non le faccio nemmeno le faccio tutte verticali perché? perché al cliente orizzontali non servono io non ho voglia di perdere tempo non ho voglia di perdere risorse inoltre vi ricordo che le camere anche se sono digitali non vuol dire che siano esenti da usura quindi ogni volta che faccio così col ditino c'è usura dentro nelle cartillagini del mio ditino ma quella è trascurabile mi verrà l'artrite quando avrò 80 anni ma amen ma c'è usura anche per quanto riguarda il mio mezzo fotografico quindi ogni volta che io premo l'otturatore c'è un meccanismo che si muove nel caso io stia usando una reflex e questo meccanismo si usura e alla lunga tende a danneggiarsi e ad abbandonarmi per cui non è vero che io posso fare centomila foto al cliente che tanto non mi cambia niente intanto mi cambia e come perché se torno a casa con tantissime foto mi ammazzo il computer mi ammazzo l'hard disk e mi ammazzo anche il weekend poi a editarle tutte è molto meglio pensarci e farne di meno quindi io ragiono su quelle che devo fare se il cliente mi dice mi servono solo orizzontali perché se no per una rivista di architettura vanno solo orizzontali a doppia pagina benissimo quello è il mio cliente tipo io lì faccio quello che voglio io le faccio orizzontali belle precise vengono stampate belle grosse nessun problema se invece vanno solamente nelle stories o se è video magari se sono video verticali allora li facciamo già in verticale così abbiamo meno problemi a editarle dopo meno problemi a cropparle meno problemi di caduta qualitativa perché zoomando croppando si perde qualità tanta anche se non ci facciamo caso quindi è un peccato inficiare il nostro lavoro in questo modo solamente perché non abbiamo avuto un'accortezza avere cura di conoscere la destinazione finale sicuramente è un plus per la qualità finale del nostro lavoro ok parliamo di un punto che è un po' spinoso perché questa cosa non la sanno nemmeno tutti ragazzi scattiamo alla qualità massima possibile del nostro mezzo fotografico che cosa vuol dire questo tornando indietro ai tempi della pellicola ovviamente c'era meno scelta da questo punto di vista nel senso che tu potevi scegliere la pellicola quindi sceglievi una pellicola ti prendevi un 100 asa lo mettevi dentro nella tua macchina fotografica e quello era tu scattavi con quella pellicola lì adesso è un po' diversa la cosa è vero che ci stiamo sempre rapportando al formato 35 mm quindi diciamo che il rapporto che alla fine è un 2 terzi è rimasto quello lì il rapporto tra lato lungo e lato corto è rimasto quello lì nella nostra fotografia però noi abbiamo delle impostazioni in camera perché la camera è digitale quindi per esempio io potrei dire alla mia camera catturami le fotografie in RAW e quindi avrei la massima qualità possibile perché il RAW è il formato nativo della mia fotocamera senza conversione senza filtri senza niente è grezzo così è pronto per essere lavorato e quella è la massima qualità possibile questo è il formato che vi consiglio se volete delle foto di ottima fattura ma potrebbe non essere questo il caso perché per esempio potreste voler scattare in JPEG quindi state abbassando la qualità delle vostre foto non la dimensione però non la risoluzione quindi le nostre foto saranno RAW a 18 megapixel per esempio se io invece decido di scattare in JPEG saranno JPEG a 18 megapixel il che significa che c'è una lavorazione interna alla fotocamera la camera il RAW lo scatta comunque perché è il suo formato nativo però se io gli dico di registrare solo il JPEG la camera automaticamente scatterà il RAW non lo memorizzerà lo processerà invece mi salverà sulla memory card solo il JPEG ora a questo proposito ogni fotocamera è diversa ma ogni fotocamera ha delle regolazioni per il JPEG per esempio è possibile selezionare il profilo colore che è Adobe RGB 1998 o sRGB su Canon forse su altri produttori ci sono delle micro variazioni ma più o meno sono due profili scegliete quello che è migliore per l'obiettivo finale delle vostre fotografie io vi consiglio di usare Adobe RGB 1998 così siete più versatili e potete sempre passare a sRGB se fate a sRGB passare a a 1998 non lo fate più quindi per versatilità io vi consiglio di utilizzare quello un'altra cosa che potete fare è utilizzare i parametri della camera per dirle come deve processare il JPEG quindi volete che sia naturale volete che sia saturato volete che sia più nitido meno nitido impostate i parametri fatevi un vostro preset e in questo modo avrete un JPEG che rispetta quei parametri ovviamente sarà meno modificabile perché non è un file RAW tuttavia quello che mi interessa farvi capire è questo il RAW mi permette una postproduzione invasiva il JPEG mi permette un po' di postproduzione ma molto poca tuttavia in questo caso stiamo sempre catturando l'immagine a formato pieno stiamo utilizzando al massimo il nostro sensore perché stiamo facendo sostanzialmente la stessa cosa l'unica differenza è che nel primo caso teniamo il RAW e lo lavoriamo a computer nel secondo caso diciamo deleghiamo alla nostra fotocamera di lavorarci il RAW e salviamo direttamente il JPEG che cosa c'è in più però? quasi tutte le fotocamere hanno delle opzioni di scalatura ovvero io potrei dire alla mia camera sì catturami il JPEG però non me lo catturare in formato pieno catturamelo a un formato più ridotto vi dico questa cosa per due motivi il primo motivo è che questa impostazione vi può servire per esempio io se so già che le mie foto finiranno su un e-commerce e so già che il set è perfetto perché ne ho curato ogni aspetto e so già che vanno piccole così che vanno cosa ne so 600x600 pixel non mi servirà mai catturarle a formato pieno è inutile che le faccio 6000x4000 se poi devono andare 600x400 è inutile quindi io posso dire alla mia camera di catturarmele già in JPEG e di catturarmele più piccole questa può essere una comodità mia se so già qual è la destinazione finale delle immagini qui ovviamente io sto riducendo la qualità e non la sto aumentando quindi questo non è per aumentare la qualità semmai è per ridurla sto riducendo la risoluzione avrò lo stesso formato con la stessa composizione ma sarà più piccola più leggera questo mi può servire anche se ho poco spazio perché se ho poco spazio sulla memory card devo fare tante foto oppure se sto facendo sport per esempio quindi devo scattare delle raffiche magari se sto scattando delle raffiche non scatto in Roma scatto in JPEG così faccio delle raffiche più prolungate non è il mio modo di lavorare io non lavoro così e non lo faccio però vi dico che si può fare che molti professionisti della fotografia sportiva lo fanno quindi why not io ve lo dico si può fare questa cosa ve lo dico tuttavia per un altro motivo perché noi qui stiamo parlando di qualità non di convenienza o di velocità ve lo dico perché verificate come è impostata la vostra camera quale che essa sia anche se è un cellulare perché anche sul cellulare ci sono queste opzioni di scalabilità se voi avete in mano un iPhone vedete che ci sono delle opzioni potete catturare l'immagine a formato pieno oppure scalarla se avete lasciato le impostazioni di default è molto probabile che la vostra camera non stia lavorando al massimo delle sue possibilità ma stia lavorando alla metà o anche meno mi è capitato più di una volta di prendere in mano una fotocamera nuova mia o di altri e di scoprire che stava catturando delle immagini con una risoluzione ridotta quindi assolutamente limitante in questo caso io prendo la camera me ne accorgo e imposto la qualità massima perché impostando la qualità massima avrò poi una foto bella grande dove posso magari anche fare un crop magari anche intervenire in post produzione ma nativamente mi sono portato a casa un file che è il massimo di acquisizione che la mia fotocamera poteva darmi se lo vado già a ridurre in fase di acquisizione poi non potrò zoomarlo cropparlo o fare della post produzione invasiva perché ho meno pixel su cui lavorare l'ho già rimpicciolita e magari non posso ripetere quello scatto quindi verificate a che qualità state lavorando con il vostro mezzo di acquisizione fotografica è importante vale anche per il video ovviamente bene siamo arrivati all'ultimo punto so che molti di voi non vedono l'ora di sentirselo dire ebbene è proprio così ragazzi cerchiamo di scattare in modalità manuale è una stupidaggine non è una cosa così complicata è pieno di video che vi fanno vedere come si scatta in manuale quindi non vi sto a spiegare qui come si fa a scattare in manuale vi dico solamente che scattare in manuale è veramente l'unico modo per avere controllo sulla vostra immagine e vi faccio un esempio per farvi capire una volta chiesi a una mia amica che lavorava in un determinato contesto professionale dove io non avevo accesso di farmi una fotografia di quel contesto che mi interessava ora io non potevo entrare nel suo ambito lavorativo e scattare io stesso per cui le chiesi il favore le dissi guarda avrei bisogno di visto che tu fai quel lavoro se mi fai una foto di questa cosa a me servirebbe lei aveva una Canon 650D una cosa del genere una camera assolutamente dignitosa io possiedo una 650D e una 700D quindi ce ne ho un po' di modelli di quella serie lì sono delle camere assolutamente dignitose il file d'uscita è buono se non ottimo quindi il problema semmai è l'utilizzo che viene fatto del mezzo lei che cosa fece mi fece la foto io ancora gliene sono riconoscente ovviamente ci mancherebbe spero che non stia guardando questo video perché capirebbe di essere lei il problema quale fu che lei mi fece le foto con le impostazioni P program quindi con la camera in full automatic ora la camera in full automatic che cosa fa legge la scena e per esempio una scena come questa quella che state vedendo ora ci sono delle aree chiare ma prevalentemente l'immagine è scura ora la nostra fotocamera che cosa fa in un contesto del genere vigliacca lei ve lo dico io che cosa fa fa una media fa una media della scena e stabilisce che la scena è prevalentemente scura e quindi che cosa fa alza l'iso tanto e aumenta anche la velocità dell'otturatore quindi io mi ritrovo con una fotografia che poteva io in questo momento sto girando a iso 125 125 se io la mettessi in full automatic sicuramente la camera leggerebbe il nero perché c'è tanto nero in questa scena io ho fatto l'esposizione su di me ho fatto l'esposizione per essere precisi sul lato illuminato della mia carnagione infatti qui è giusta magari la maglietta è un po' troppo scura però credo che sia la cosa migliore in fondo quindi capito cosa voglio dire se io avessi delegato questa operazione alla camera la camera avrebbe detto ok c'è tanto nero per cui alziamo gli iso però la camera è anche progettata per sapere che io potrei averla in mano quindi potrebbe esserci un movimento delle mani l'hand shake quindi la camera automaticamente pensa io devo compensare l'hand shake e quindi devo ottenere i valori di otturatore abbastanza bassi cioè con dei tempi abbastanza rapidi quindi magari vi fa iso 1000 e un 500esimo di tempi di scatto che è una roba atroce è una roba inguardabile perché io penso quella fotografia io a mano libera la facevo a un 50esimo perché a un 50esimo a me la foto viene non mi trema la mano io quella foto la facevo a un 50esimo a iso 100 la camera in automatico me l'ha fatta a un 500esimo con iso 1000 quindi ha completamente mandato in pappa tutta l'immagine perché una foto fatta così in automatico sarà scattata a una velocità supersonica cioè un 500esimo si usa per prendere un corridore che vi passa davanti in mezzo alla strada e avrà un rumore di fondo pazzesco perché a iso 1000 vabbè a seconda della camera che state usando però a prescindere se poteva essere scattata a iso 100 e io l'ho scattata a iso 1000 l'ho buttata via quella foto perché comunque avrò una caduta qualitativa avrò una gamma dinamica inferiore perché ho usato gli iso automatici se io avessi scelto quei parametri con consapevolezza ovviamente avrei scattato con un tempo un pochino più lungo un cinquantesimo di secondo la foto viene magari un 125esimo se ha un ritratto se c'è una persona in movimento un 125esimo è meglio però a quel punto facciamo un 125esimo iso 200 senza arrivare a iso 1000 perché iso 1000 veramente mi sfarina tutta l'immagine e l'aver impostato la camera in automatico mi ha fregato mi ha fregato perché io credevo di star facendo la foto giusta invece la mia camera stava facendo tutto un ragionamento suo per cui mi sballava ben due parametri magari mi sballava anche il terzo andando a vedere bene perché magari io volevo una foto tutta bella a fuoco e invece la camera per mettermi gli iso alti e per mettermi i tempi bassi mi ha pure aperto o chiuso il diaframma in maniera tale che a me non andava bene ovviamente dipende da cosa stiamo facendo perché se siamo alla cresima del cuginetto della nostra amichetta possiamo anche scattare col telefono e chi se ne frega però se ci stiamo addentrando in un ambito dove vogliamo realizzare delle foto sempre migliori questo è un aspetto che va sicuramente curato e va curato ancora di più per il video ovviamente se siete appassionati di cinema vi sarete accorti di come nel cinema non c'è una virgola fuori posto ed essendo una cosa che si muove non uno scatto singolo ci sono molte più cose da tenere sotto controllo quindi è ancora più complicato e lì bisogna anche bilanciare il dentro col fuori nel caso ci siano scene di passaggio in movimento da cui da una stanza interna si arriva a una situazione esterna è veramente tutto molto più complicato in video i principi sono gli stessi e comunque bisogna lavorare in manuale se no siamo spacciati nel video c'è anche la complicazione del movimento e quindi bisogna tenere conto anche della terza dimensione ovvero del tempo quindi bisogna tenere conto dei frame al secondo bisogna tenere conto che se stiamo facendo un prodotto cinematografico lavoreremo a 24 frame al secondo se stiamo lavorando per i videogiochi lavoreremo a 60 o 120 frame al secondo se stiamo facendo uno slow motion estremo lavoreremo magari a 240 frame al secondo e questo di conseguenza influirà sulla resa e sull'esposizione per esempio se stiamo lavorando con uno slow motion dobbiamo stare attenti allo shutter che impostiamo perché se stiamo lavorando a 240 frame al secondo dobbiamo impostare lo shutter di conseguenza altrimenti avremo un fastidiosissimo effetto flickering perché noi siamo in Italia e in Italia lavoriamo con la corrente a 50 hertz mentre il 240 frame al secondo è un formato volendo un po' americano quindi si basa sulla corrente americana che è con un herzaggio diverso ora queste sono tutte cose tecniche in cui non voglio entrare nello specifico in questo video è semplicemente per darvi una panoramica generale e farvi capire che è il momento di cominciare a scattare in manuale non è così difficile so che ce la potete fare a questo punto a me non rimane altro da fare che invitarvi a lasciare un like a questo video e anche iscrivervi al canale perché altrimenti come farete a rimanere aggiornati su tutte le prossime novità e a questo proposito io vi do appuntamento al prossimo video A presto